Bentornati carissimi amici all'appuntamento col meteo per questa domenica 26 novembre il maltempo giunto dal nord atlantico sta attualmente interessando l'italia si è formata una bassa pressione che sta apportando piogge temporali specie sulle aree adriatiche e terreni del zielino meridionale le piogge si concentrano soprattutto tra emilia romagna marche e abruzzo localmente i fenomeni sono anche di forte entità vediamo il tempo nel dettaglio per questa domenica ci aspettiamo ancora maltempo sull'abruzzo al mattino momentanea pausa avremo cieli nuvolosi o poco nuvolosi ma tra pomeriggio e serata aggiungerà un nuovo fronte perturbato dall'adriatico che apporterà piogge diffuse e localmente anche delle nevicate in apennino a quota via via sempre più basse in serata potranno anche raggiungere gli 800 900 metri di quota qualche fiocco di neve potrebbe giungere anche all'aquila pertanto le temperature sono attese in netto calo grazie all'ingresso di aria fredda di origine artica a tutte le quote nel corso della seconda parte della giornata con questo è tutto grazie per l'attenzione al prossimo appuntamento col meteo Grazie Grazie Grazie